Stress termico, nuova legge, il Consiglio regionale ha approvato le nuove norme a tutela dei lavoratori in presenza di alte temperature. Tartufi cambiano le regole, modificata la normativa vigente in tema di ricerca, raccolta e coltivazione. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Iniziamo con la sanità. La Regione Toscana si è dotata di una nuova legge a tutela dei lavoratori esposti a caldo estremo. Approvata dal Consiglio la proposta presentata dal Partito Democratico, primo firmatario Andrea Vannucci. L'atto modifica la legge regionale del 2019 con particolare attenzione appunto al tema della prevenzione del rischio da stress termico. L'abbiamo visto anche nella nostra regione con episodi drammatici e lo abbiamo visto nel resto d'Italia, soprattutto nelle regioni del centro sud e nelle isole. Una canicola che ormai non è più un'emergenza, è una costante perché sono già diverse stati in cui per periodi più o meno lunghi le temperature raggiungono vette altissime e questo ha un impatto sulla salute di chi lavora, soprattutto di chi lavora in determinate condizioni. Penso ad alcune categorie ma sicuramente è un elenco che non può dirsi concluso. Penso per esempio a chi lavora nell'edilizia, a chi lavora sulle strade, a chi lavora in alcune cucine. Questo evidentemente è un qualcosa che merita la massima attenzione da parte della politica e non soltanto. Questo è un percorso che avevamo iniziato presentando la proposta e con il lavoro in commissione, diciamo quando le temperature erano più umidi evidentemente. Il calendario ha voluto sostanzialmente che si arrivasse al voto forse nel periodo più caldo dell'anno, anzi sicuramente almeno fino adesso nel periodo più caldo dell'anno. È una proposta che è diventata legge che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme, il cosiddetto stress termico, quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale, ovvero il macrolotto di Prato e le cave nel Carrarese. Chiediamo quindi alle istituzioni, ai soggetti attraverso questa legge di mettere in campo una sinergia ancora più forte, di mettersi a un tavolo, stilare protocolli, accorgimenti, misure che mettano in condizione i lavoratori di svolgere il più serenamente possibile il proprio lavoro. Noi crediamo che questo sia un elemento di attenzione e di civiltà che la nostra regione non poteva non fare. Quindi devo registrare con grande piacere che la proposta è stata approvata con unanimità sia in commissione sia in aula a dimostrazione di quanto evidentemente nel momento in cui si parla di sicurezza sul lavoro, di salute dei lavoratori, non bisogna dividersi politicamente ma muoversi nella medesima direzione e nell'interesse di tutti i cittadini. Diciamo che in commissione sanità avevamo già trovato una quadra sull'argomento, ma è una questione di buonsenso. Inizialmente in commissione avevo avuto qualche remora per il semplice motivo che mi sembrava un eccesso di zelo, perché comunque i lavoratori sono soggetti alle visite del medico competente e conseguentemente pensavo che potesse essere un sovrappiù. In realtà poi discutendo credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. In fin dei conti esistono per esempio a Dubai esistono degli orari di lavoro che sono notturni, quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione. Si dice che non ci sono le mezze stagioni, in realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense sia estive che invernali, vedete i vari acquazzoni che leggiamo quotidianamente. Per cui a parte gli scherzi credo che questa legge sia appunto una legge di buonsenso che ribadisce certe situazioni cambiate nell'arco degli anni. È una proposta che noi abbiamo anche firmato e chiaramente abbiamo votato favorevolmente in aula. È una proposta che in alcun modo limita la capacità di esprimere la produzione ma tiene conto invece delle necessità anche dei lavoratori che a fronte di un cambiamento climatico che in questi giorni abbiamo avuto modo di non apprezzare ma di verificare con forza e tenga conto di queste necessità. Ci sono operatori nel campo dell'edilizia, nel campo dell'agricoltura che si trovano nelle ore centrali del giorno sotto temperature incredibili a dover lavorare. Che cosa è che si chiede? Il rispetto di questi lavoratori mantenendo lo stesso orario di lavoro ma sposticipato dalle ore centrali e quelle più calde. Il che non influisce appunto sulla produttività ma salvaguardia invece l'integrità fisica e la salute del lavoratore. Bisogna tenere conto che in questo paese a norme che tutelano gli animali dal lavoro in caso di climi torridi o oltre una certa temperatura, la norma sui Fiaccherai qui a Firenze ne è un esempio, è più che opportuno tenere conto di questi cambiamenti climatici e andare incontro alle necessità dei lavoratori che fanno anche lavori complicati e complessi. L'altro giorno ho avuto modo di seguire un signore che lavora sulla gru a 50 metri d'altezza che sposta pesi enormi e diceva io mi sono quasi sentito svenire se non bloccavo la gru e scendevo rischiavo di fare grossissimi danni. Quindi non soltanto tutelare i lavoratori ma tutelare anche tutti i cantieri e le cose che abitano o vivono intorno ad essi. E doveva essere un intervento tempestivo da parte della regione toscana così come lo hanno fatto quelle della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Doveva intervenire secondo noi con un'ordinanza che in condizioni particolari di stress termico soprattutto per chi lavora all'esterno e non ha possibilità di ripararsi nelle ore centrali della giornata doveva essere previsto la possibilità di uno stop e anche della cassa integrazione. Agendo in questo modo con una proposta di legge che sicuramente è positiva ma non risolve nell'immediato il problema, non si va al nocciolo del problema che fondamentalmente è quello che attualmente fino ad agosto molti lavoratori saranno sottoposti a condizioni estreme e non saranno tutelati. Tutela che è innanzitutto a carico del datore di lavoro ma in cui il soggetto pubblico deve fare la sua parte. La regione soprattutto quando si tratta di controlli con le asle per verificare dove queste condizioni sussistono o meno e poter agire. L'ordinanza era l'unico modo per poter andare diretti al problema e invece così facendo si è messo un pannicello caldo ma niente di più. È stata molto più coraggiosa l'iniziativa delle altre regioni sicuramente. Cambiamo argomento. Marco Nicolai del Partito Democratico è stato confermato presidente della Commissione Aree Interne nel corso della seduta di reinsediamento della Commissione stessa giunta a metà mandato. Nella stessa seduta che secondo Prassi è stata presieduta dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sono stati eletti come vicepresidenti Massimiliano Baldini della Lega e Donatella Spadi sempre del Partito Democratico. Baldini subentra alla collega di partito Luciana Bartolini. Sentiamo il riconfermato presidente Marco Nicolai. Sì voglio ringraziare i colleghi sia di maggioranza e di opposizione che mi hanno riconfermato in questo ruolo. Siamo la prima commissione in Italia che in un consiglio regionale riguarda il tema delle aree interne subito dopo è stato il turno della campagna e quindi siamo in parte anche una start up. In questi primi due anni e mezzo abbiamo lavorato sul tema delle risorse e devo dire che aver raggiunto l'obiettivo di destinare 900 milioni di euro alle imprese, ai comuni, dei territori interni della Toscana è stato un obiettivo raggiunto molto importante che la Commissione ha chiesto e che la Giunta, e voglio ringraziare il Presidente Gianni, ha accolto come nostra richiesta. Ora in questi anni c'è la necessità di sostenere i territori e le imprese nell'intercettare queste risorse. Noi pensiamo che le aree interne non siano luoghi da leggere come luoghi dove ci sono problemi da affrontare ma come luoghi di opportunità anche di fronte a uno scenario climatico totalmente diverso e pensiamo che non siano solo luoghi da cartolina ma luoghi dove si può produrre e creare sviluppo. Ecco perché questi 900 milioni di euro gran parte andranno alle imprese che decidono di investire in questi territori perché lo spopolamento si batte solo ricreando lavoro e occasioni di crescita professionale e personale. Voltiamo ancora pagina e parliamo di agricoltura. Sì, del Consiglio regionale alla nuova legge sui tartufi cambiano le regole in Toscana. Il Consiglio ha approvato a maggioranza la modifica della normativa vigente in materia di ricerca, raccolta e coltivazione del tartufo e valorizzazione del patrimonio tartuficolo toscano. Ha votato contro il gruppo di Italia Viva e si sono astenuti Lega e Fratelli d'Italia. Votato anche un ordine del giorno con 31 voti a favore e il no del consigliere regionale Scaramelli. Sentiamo le interviste a partire proprio da Scaramelli. Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano, è una peculiarità unica del nostro territorio, è una sorta di oro e lasciare libera la raccolta e la fruzione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo ma ovviamente a favore del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano a mio avviso è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima, rischia di distruggere la storia e la tradizione non soltanto della raccolta ma anche della cultura, del tartufo, del lavoro e della fatica dell'uomo. Chi coltiva una tartufaia, chi lo produce, chi la lavora, chi mette in sicurezza idraulica un territorio fa un lavoro per il territorio, lo fa per se stesso, lo fa dentro un quadro di regole che in questo momento consentivano a molti ragazzi e a molte ragazze di fare impresa. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato il lavoro, debba essere tutelata la promozione, debba essere tutelata la valorizzazione di un prodotto che è sì del territorio, è sì spontaneo ma se coltivato produce una redditività importante e una produzione. La storia ci dimostra che laddove si è coltivato infatti si trova ancora ed è non è un caso che da altri territori vorrebbero andare a uniformare le normative. Avevamo proposto molte alternative, quella di differenziare nelle sette aree di provenienza toscana, una differenzazione delle norme, si è voluto tirare dritto, a mio avviso è un grave errore perché il testo di legge concertato con l'associazione di categoria, con il mondo dell'impresa che la Giunta aveva partorito era un testo ottimo, il testo che arriva in fondo è snaturato e credo che questo sia un errore che si assumerà il Partito Democratico al cospetto dei cittadini toscani. La legge va esattamente nella direzione di tutelare quello che è un patrimonio della regione toscana che è una delle maggiori regioni a livello italiano per la coltivazione e la cerca del tartufo, con circa 4.000 tesserini ogni anno che si dividono fra zone coltivate e zone di libera cerca. Quindi è quello che è stato l'interesse oggetto di questa modifica di legge per le mutate condizioni della normativa nazionale ovviamente è stato quello di trovare un punto d'equilibrio che fosse il più possibile rispettoso sia di coloro che coltivano e che quindi hanno modalità di coltivazione tutto l'anno, sia per le persone che hanno la volontà di andare a fare una libera ricerca del tartufo nel territorio regionale, con un'attenta anche mappatura che dovrà essere redatta ancora più precisamente sulle zone che siano effettivamente realmente produttive di tartufo, cercando di limitare e di dare una definizione precisa agli orari per la cerca del tartufo, alle zone di addestramento cani e quindi quelle che sono le regole sia per la regione ma anche per i comuni per disciplinare quella che è una materia sicuramente molto complessa e molto importante e una grande fonte non solo di economia ma anche di hobby per questa regione che ne fa di un prodotto di grande valorizzazione e di richiamo in tutta la nostra regione. Quindi il punto di caduta credo sia un punto che non ha snaturato ma che ha cercato di valorizzare e di dare in qualche modo una giusta risposta a tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno la volontà di cercare questo prezioso prodotto. Alla fine la discussione e l'ordine del giorno collegati sono stati firmati anche da Fratelli d'Italia e dalla Lega e di questo insomma gli ringrazio. Vorrei fare un grande ringraziamento anche agli uffici sia legislativo della Giunta che del Consiglio regionale perché il lavoro che ci ha portato a questo testo definitivo è stato un lavoro molto lungo, complesso che ha fatto sì che le oltre 80 osservazioni che fossero arrivate in un percorso di ascolto di tutte le associazioni coinvolte fosse costante e quindi attentamente anche valutato, arrivando poi alla fine a trovare una quadra, una sintesi che mettesse d'accordo più persone possibili. La nuova legge aggiorna una normativa che risale a circa 30 anni fa, c'era bisogno di aggiornarla, adeguarla e ammodernarla anche a quanto registriamo ad esempio sotto il profilo dei mutamenti climatici. Il nuovo calendario infatti sposta in avanti i termini per la raccolta del tartufo. Il nostro obiettivo è stato quello di mantenere, di raggiungere un equilibrio e un punto di condivisione fra i vari interessi e le varie tradizioni che nei territori agiscono, fra coloro che giustamente pagando un tesserino alla regione toscana e sono migliaia hanno diritto ad avere un territorio dove esercitare la propria attività e la propria passione con il lavoro prezioso che fanno le associazioni dei tartufai sul versante della manutenzione e della preservazione di un territorio, così come legittimamente operano anche le imprese che gestiscono le tartufaie controllate. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra sette giorni. Grazie.